Ciao, eccoci qua per un'altra virabolante avventura, oggi andremo a Cascia, provincia di Perugia, in Umbria, la città di Santa Rita. Visiteremo la basilica, la casa natale della santa, che è chiamata la santa delle cause impossibili e poi nel pomeriggio visiteremo anche Roccaporena, che è un altro luogo importante nella vita di Santa Rita e nel suo percorso spirituale. Buona visione, noi stiamo per arrivare, per iniziare la visita. Vi ricordo, se siete appassionati di viaggi, soprattutto di viaggi in Italia, vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare le notifiche, in modo da essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblicherò. Un saluto a tutti e buona visione di questo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.